Beffa, Sandrabate, gli Irpini perdono 4-3 a Pomezia. La squadra di Mr. Piero Basile crolla nel finale dove aver condotto quasi interamente il match giocato contro i Laziali. Uno stop che fa molto amareggiare il tecnico e i giocatori che sul campo della formazione Laziale hanno giocato una grande partita, ma hanno pagato gli errori piuttosto banali in alcune circostanze che hanno dato l'opportunità ai personaggi di casa di credere nella rimonta. I gol non sono mancati con il primo tempo che si è concluso sul 2-2, alle reti di Wilde per la Sandrabate al 9-40 e di Ozen a 12-40 e Murillo per la Fortitudo a 14-30 e ierrai al sedicesimo. Il secondo tempo ha visto la Sandrabate segnare nuovamente con Arillo a 1-3, ma la Fortitudo ha ribaltato il risultato con i gol di Michelangelo al 15-20 e Micheletto al 16-30 assicurandosi la vittoria, ribaltando la gara conquistando tre punti pesanti per la corsa play-off. Ora la pausa, poi si ripartirà contro le cosiddigenzano nel prossimo turno. La corsa play-off per la Sandrabate continua come conferma il tecnico Piero Basile. Ormai queste sono partite quasi di play-off, sappiamo che per il Pomezia era quasi l'ultima spiaggia questa, quindi sapevamo che dovevamo soffrire fino all'ultimo secondo. È stata una partita equilibratissima, bellissima, credo il pubblico si sia divertito. Noi abbiamo avuto l'occasione soprattutto sulla superità numerica, perché se riusciamo a fare il gol sulla superità numerica andiamo in doppio vantaggio e lì abbiamo più chance di portare la partita a termine. Purtroppo abbiamo commesso uno dei pochi errori della gara, forse sul gol del vantaggio del Pomezia, perché abbiamo lasciato credo un uomo, lo devo rivedere, però è stato uno dei pochi errori. In questo momento il Pomezia è uno delle squadre migliori del campionato per come gioca, l'intensità che ha, quindi noi abbiamo tenuto testa fino all'ultimo e abbiamo avuto anche qualche occasione col portiere di movimento. Però la partita è andata così, ci prendiamo la prestazione, dobbiamo correggere qualcosa che non è andato, come la superità numerica e magari qualche errore difensivo che abbiamo fatto, che abbiamo ribaltato la partita a favore loro. Andiamo avanti, ci mancano quattro partite, dobbiamo cercare di fare punti per centrare prima di tutto l'obiettivo playoff.